Si chiama Evelyn Miller e di lei, se non erro, vi parlai in uno dei miei video vecchi. Per chi non lo sapesse, è una donna australiana, ha ben 31 anni di età, e ha voluto trasformare la situazione che la vede protagonista in una situazione di puro miglioramento, o meglio, di pura, chiamiamola felicità. In quanto vi ricordo che la donna in questione ha ben due pagine, ha una condizione particolare molto molto rara, però ha deciso di lavorare come escort. Ha degli altissimi guadagni, ha anche un suo canale su Pornhub, che vi invito a visitare solo se siete maggioreni dai 18 anni in su, un canale su OnlyFans, e guadagna un sacco di soldi, circa 12.000 euro a 7 giorni, una cifra epoca e azzarda a dire. Nel 2011 gli specialisti le diagnosticarono l'utero che si chiama Tidelfo, e quindi questa caratteristica per i due apparati riproduttori, ma la donna in questione non si è persa d'animo ed anche ad ansia molto soddisfatta. Infatti pensate che con queste due, una la utilizza, una è per il marito, l'altra invece la utilizza a livello lavorativo. Insomma, è una cosa incredibile. Fa cifre epocali, è soddisfatta, si ritiene una donna riempita dalla vita, riempita anche da quelli così là che si chiamano reali e ugelli. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, da narratore italiano di Youtube Italia è tutto, ciao a tutti. Grazie.